Ciao a tutti, questo video per inaugurare una nuova rubrica, una nuova rubrica che il cui tema sarà l'autoguarigione, cioè tutti quei metodi, diciamo così, di autoguarigione, soprattutto autoguarigione di natura spirituale e autoguarigione energetica ovviamente. Cosa significa questo? Significa che dentro di noi ci sono dei processi, diciamo così, che prima si manifestano a livello energetico e poi eventualmente si possono manifestare anche a livello fisico, a livello mentale, ma creare un equilibrio energetico, diciamo, da un lato serve appunto avere un equilibrio e quindi stare in armonia e prevenire, diciamo, il manifestarsi di squilibri, di disarmonie che poi possono manifestarsi anche a livelli diversi, a livelli fisici. Dall'altro andare a creare quell'equilibrio olistico che consente alla persona di attivare naturalmente i principi, i processi di autoguarigione che possono, diciamo, scaturire. Diciamo che il miracolo ha una sua struttura da un certo punto di vista. Tutti, diciamo, quelli che si rivolgono a situazioni trascendenti, ad esempio, come, non lo so, viaggio a Lourdes, Međugorje, eccetera, vanno ad attivare proprio in realtà utilizzando, credendo, diciamo, attraverso in questo caso un'icona, attraverso una forma, una divinità, quello che è, comunque vanno di fatto ad attivare dei processi che si manifestano dentro di sé, si manifestano dentro di sé generando quello che è il cosiddetto miracolo, processo di autoguarigione vero e proprio. E quindi noi abbiamo la possibilità di utilizzare le energie. Ci sono diversi sistemi, diciamo, di utilizzo delle energie, riequilibrare, per così dire, il flusso energetico, il contatto energetico che abbiamo con l'universo in modo tale che naturalmente possiamo vivere in armonia. Quindi presenterò diverse metodologie, diverse strategie, proprio finalizzate al benessere, finalizzate all'autoguarigione. Bene, per questo video è tutto, quindi a breve ci saranno una serie di video su questo tema. Iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ciao!